Ma che bel momento Ma che bel momentino Guardate Ferinichi Con quella faccia sei inguardabile Te lo giuro Lì che ti dondoli come una vecchiettina Col sole che ci scalda L'alberello di Natale coi giochi Una consolina che ci spia dalla finestra E ragazzi come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef E siamo finalmente tornati su Blocksburg Perché sì come potrete vedere Dal log screen hanno aggiornato la mappa Tema natalizio e non vedo l'ora di vederla Sono super felice Si vede che sono super felice e non vedo l'ora A Ferinichi fa male il Natale Quindi preparatevi perché per tutto questo mese Diventerà totalmente pazza Non solo hanno aggiunto la neve in tutta la mappa Ma hanno pure aggiunto gli oggetti per Natale Non so bene cosa ci sarà Immagino l'albero e tutte quelle belle cose Quindi entriamo subito e vediamo Spero che i nostri soldi ci bastino Come sempre sto puzzando tantissimo Guardate c'è la nuvoletta tutta intorno La neve è davvero fantastica È bellissima Ci sta troppo bene Vediamo subito Proprio partiamo controllando subito quello Che dici? Sì dai sono d'accordo Sono d'accordo Allora Casettina Enter build mod Guarda Il pacchettino Quindi sicuramente c'è anche l'albero Puoi fare l'albero con tutti i pacchettini sotto Giusto? Guarda Oh che bello Questo si mette all'entrata no? Anche dentro casa Lo puoi mettere un po' dove vuoi Però secondo me ci sta bene nella porta Sì nella porta ci sta davvero bene Poi Allora Come si toglieva il tetto? Perché mi ricordo che l'avevo trovato E mi sono già dimenticato come si faceva Così Perfetto Non lo sapevo neanche Ti dico la verità Non lo sapevo neanche Eh l'avevo trovato poco tempo fa Così possiamo fare le cose fatte meglio Questo è un altro regalino di Natale Che possiamo piazzare Dov'è l'albero? L'hai visto Babbo Natale? No 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 vabbè Io oggi ci gioco tutto il giorno Mi troverete tutto il giorno qua Perché davvero Incredibile Bellino Bellissimo Bellino bellino Poi ne mettiamo anche uno in piscina Perché lui ovviamente si vuole fare Giustamente Mettilo vicino No aspetta Lo volevo mettere vicino allo sdraio qua Capito? Che si prende il fresco Perché il sole Poverino non lo può prendere Perché si squaglierebbe Quindi si prende il fresco del Natale E lì vicino alla piscina Secondo me c'è un po' di freschetto in più C'è anche Babbo Natale L'hai visto? No Da 300 È perché ho l'asta Cioè guarda Hanno aggiunto davvero tante cose Io queste cose le apprezzo sempre Quando fanno le cose a tema Io lo apprezzo sempre Sono troppo bellini Ci devono stare vicini Perché guardali Sì sono fantastici Questi qua così vicini vicini E invece qui Capito? Sono compagni di piscina No lì non lo puoi mettere Perché c'è la luce Vedi? Ma questo è gigante Vabbè Le cortile per forza Le cortile per forza Allora aspetta Stai un po' esagerando Ti stai facendo prendere la mano Con le decorazioni La casa quando c'è Natale Si decora di brutto Secondo me O no? Come con le trasmissioni In cui fanno vedere le case super illuminate Che fanno tutti giochi di luce Ce le presenti Esatto Io me le guardo sempre per Natale Quindi bisognerebbe farle in quel modo Eh vabbè Esagerato dai Sto spendendo tutti i miei sogni Sembra Candyland Sì è incredibile Poi cos'altro c'è? Eccolo Eccolo E lì in mezzo al salone Qui? Sì là con tutti i regalini sotto Perché non facciamo proprio qui la zona Natale? Visto che abbiamo una stanza vuota Facciamo la stanza Natale a questo punto Vai 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 sì ci sto ci sto Così la riempiamo tutto di regali intorno Tipo noi la mettiamo qua Ok? Che è tutta una bella sua zona E lo riempiamo tutto di regali Hai notato che le lucine illumina la stanza? Sì Ha fatto bene Cos'altro c'è? Perché io ho la sta del microfono in mezzo e non vedo tutto Allora Questo è un regalino con già il bigliettino Sorri? Perché sorri? Mi sta venendo un dubbio Siccome in questa mappa si può interagire con praticamente qualsiasi cosa Non è che magari è un pacco regalo Che si può aprire e succede qualcosa Magari a sorpresa Non lo so Dobbiamo provare Dici un pacco regalo scorzetto? Eh sì Perché quel sorri sinceramente mi fa pensare a quello Potrebbe essere Fammi riempire tutto di regali E poi lo proviamo Come un po' Oh mio dio non dovevano farmelo Oh mamma mia Sai che adesso faccio tutto la casa fuori No dai tutta no Fuori però sì fuori ci sta Fuori tutto Dentro direi solo una parete dai Giusto per non esagerare Sì vabbè non ci sta l'altra patenza Ma che tristezza Direi per non esagerare perché poi non vorrei che risulti troppo decorata Capito? Ma almeno qua che si vede Eh la sì la sì la sì Due ci stanno due E allora mettine uno centrato dai Che fastidio Sì hai ragione Sì hai ragione Un po' più centrato Lo sposti Così Sì 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 Ok E comunque è carino Bellino vero? Sì molto Allora ci servono delle luci invece Ma questo è sempre esistito? Sì c'è sempre stato Non l'ho mai vista Fantastico l'avevo già vista Allora delle luci per la stanza Tipo queste vero? Sì dai ci sta Oppure quelle da muro Quelle che vuoi No vanno bene queste Queste secondo me ci stanno bene Tipo ta e ta E poi magari ne metto uno o due da muro Tipo una qui Vero? Sì perché illuminano davvero poco Le luci Quindi devi riempire Così va bene Sì Guardate come è scelto bellina Questa zona Ovviamente adesso Continueremo ad arredarla Un pochettino Perché bisogna farlo Certo Ma dopo aver scoperto Che si possono fare le luci Ho una cosa da fare Importantissima La mia casa si vedrà Da dieci chilometri Di distanza Come è giusto Le case di Natale Si devono vedere Esatto Devono essere proprio Super vistose Devi avere la migliore del quartiere Infatti non credo di fare Solo questa linea Forse ne faccio anche una bassa Ora vediamo un pochettino Come ci sta Finiamo prima questa E poi vediamo Che dire? Bellissima È bellissima Meraviglioso Allora Vediamo tutto quello che c'è ancora Io ho già speso Tipo Ottomila Tutto Ottomila dollari In decorazioni natalizie Siamo noi Siamo decisamente noi Allora non abbiamo guardato Però nelle altre sessioni Se c'è qualcosa di Natale Esatto Però mi sembra di no Vero? Mi sembra che hanno aggiunto Solo qualcosa nelle decorazioni Beh D'altronde cosa metteresti Capito? Mi sembra normale Che sia così Però per sicurezza Io controllo Perché se perdo qualcosa Poi mi arrabbio tantissimo Ok abbiamo finito Allora Vi facciamo vedere In prima persona Come abbiamo fatto la stanza Si entra Si arriva qua Già da qui Capito? Vedi l'alberone Che ti mette subito E la tua puzza E le tue mosche Ma dai ma le mosche Ma toglietevi Scusate State rovinando l'atmosfera natalizia Entrate Alberone di Natale Con tutte le lucine Pianoforte per suonare Le canzoni di Natale Pupazzino di neve Che ascolta Quando suoniamo Col pianoforte E infine C'è questo qua qui Bellino Giusto per aggiungere Qualcosina Molto molto carina Secondo me È super fantastica Però scusate Che ho bisogno di farmi una doccia È proprio una cosa urgente Direi direi E poi proviamo ad aprire Il pacchetto che ho scritto Succede qualcosa Scusate un attimo Due secondini È troppa fatica a decorare Mi sembra giusto Poi andare in bagno Capito È bisogno Attimino sistemarsi L'importante è che Non ho più mosche Ok Se cammino lento Pazienza È soltanto un pacchetto Regalo a Natalizio Per chiedere scusa A qualcuno E infatti Ok Vabbè Avrà un suo senso Non era una bomba Non era una bomba L'importante è quello Che non ci esploda la casa Esatto Quindi la cosa più importante È quella Arriva a prenderti Che ci andiamo a fare Un bel giretino Natalizio Andiamo a vedere cosa hanno cambiato Nella città Se ci sono anche i negozi Decorati a tema Dove sei? Ma come ha fatto questa persona? Che cosa sei? Mi sa che se tu Ti metti il garage in casa Ok Puoi cambiare il colore Della tua macchina Uh Ma questo è bello Non lo sapevamo Perché c'era Devi farlo pure tu C'era una persona Che aveva la macchina Tutta strana e particolare Guarda questa Questa è fatta per te Quale? Guarda il mio schermo Casa mia quella Guarda Tutta rosa Tutta rosa Mi sembra giustissima Questa è la mia nuova casa Ti piace? C'è C'è Sai ho speso talmente tanto Per le cose natalizie Che sono finito Per strada Però la tv e il divano No aspetta È tutto a posto C'è un po' di freddino Però possiamo andare avanti Tutto a posto Sì sì tranquilla Anche la montagna È imperneabile Guarda la montagna Adesso sì che l'Everest È per davvero È tutta nevata Sì 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 Giustamente Come facciamo a risalire? Ah non lo so Io direi che scendo Ti mollo qua No 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 Ok siamo arrivati nel negozio Per fare shopping natalizio Aspetta che Anche se non mi sembra Che ci sia nulla di natalizio E vabbè è shopping Però va bene Quando si fa shopping Va sempre sempre bene Buongiorno signorina Uh vabbè Piena di cosettine Interessante I letti Belli Allora A me piace molto Questa panca in legno Uh bella Me la compro Guarda che questa Guarda che bella questa sedia Allora Aspetta un attimo Do you want to visit now? No grazie Ok ci sono Vai fammi vedere Questa È proprio da vecchietto Col fuoco Questo se ti metti Il fuocherello in casa Davanti al caminetto Bello La compro Mi sei piaciuta molto Sì 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 Ok poi la piazziamo in casa E guarda anche questa Questa qua è futuristica Eh questa sì Però è proprio brutta Eh non mi piace Manca a me Questo tavolo è carino Questo per cena È molto bellino Guarda Sì è vero Però nella mia cucina Non ci sta Quindi non lo compro Ok Cataloga Non voglio spendere altri soldi Perché sono povero Andiamo a piazzare questi Che ho comprato Ok E vediamo se abbiamo Abbastanza soldi Per fare il garage Per modificare appunto La macchinina Ok ok Perché se ci riusciamo Quello secondo me è epico Guarda ti faccio vedere la casa Quella lì rosa Che tanto è mia vicina di casa Guarda che bellina Un po' troppo rosa direi Però è carina È carina Sembra una casa delle Barbie È troppo bellina Vediamo se fa Ad entrare nel garage Tramite questa zona Io se ridupi Ho tolto la staccionata Sì fa 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 Ok Ok Allora devo scendere Da quello che ho capito Oh no Aspetta sto parlando Con i tuoi permessi Scusate Ok Vedi Open Poi risali in macchina E la parcheggi Ok Adesso Ok Adesso teoricamente Noi possiamo Andare Sul Modifica Ok Vediamo un attimino Colori Enter build mod Colori Quindi selezioniamo i colori E vediamo Se mi fa fare Anche la macchina No Come hanno fatto Allora Ma che bel momento Ma che bel momentino Guardate Ferenichi Con quella faccia Sei inguardabile Te lo giuro Lì che ti dondoli Come una vecchiettina Col sole Che ci scalda L'alberello di Natale Con i giochi Una consolina Che ci spia Dalla finestra Io che suono il piano E il fuoco Che scalda tutto Davvero Un momento Meraviglioso Sì vedi Uno sta qui Capito Si ascolta le canzoncine Di Natale Aspetta la mezzanotte E poi apre i regali Vede la scia chimica Che lascia una consolina Ponzolente Perché non si lava Come non ci stiamo lavando noi Ah pure io la lascio Siamo tutti compagni di sci E di puzza Siamo tutti compagni di sci Bisogna lavarsi ogni due minuti In questa mappa Guarda adesso sono anche Un livello 3 di musica Ci laviamo prima di Natale Mettiamola così Facciamola a maratona Esatto E mi sembra giusto Comunque allora Io direi che ci possiamo Fermare così per questo video Voglio giusto Prima di concludere Guarda qui non mi molli più Non mi togli più da qui Guarda Sicura Sì 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 Guarda come dondolo Ma posso andare anche più veloce No Che bello il fuoco Io lo vorrei in casa E non so se faremo Un altro video di questa mappa In questo periodo Perché non è che ci sia Troppissimo a fare Abbiamo anche finito tutti i soldi Per fare le cose natalizie Quindi non credo Che lo riporteremo a breve Perché ci serve del tempo Ogni volta per fare i soldi Sì ci vuole tantissimo tempo Per fare i soldi Magari cerchiamo di rientrare Proprio poco prima di Natale Per rivedere la nostra bella casettina Perché sinceramente Giustamente Abbiamo fatto proprio un buon lavoro E magari in quel momento Avremo anche la casa di Ferinichi Tutta arredata a tema natalizio Sì devo farlo anch'io Perché l'abbiamo appena scoperto Proprio di queste decorazioni Siamo subito entrati Per fare il video Quindi sì Per Natale Decorerò sicuramente anche la mia casa Va bene Non vedo l'ora Ragazzi direci così Sui sito Sciatrici un like Questa è la prima volta Che avete un nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao Ciao